ah beh ma erano quasi arrivati questo qua è l'unico punto che puoi passare quando si allaga perché di là non ce n'è, ce n'è uno altissimo da sopra ma è lontanissimo l'unico che c'è quando si allaga qua che allaga la strada tutto è questo e basta non ce ne sono altri se non tieni sgombro questo se si allaga sei ciulato anche questo si è spianato non è mai stato così in piano sembra in piano perché è pieno di foglie ma poi non è così di là è tutto pulito a posto di qua cosa stai facendo? a te conviene andare a te la tua con questa si vede che non ti fidi e anche qua bisognerà buttargli dentro qualche legno perché diventa sempre... è che non ci sono appoggi qua qua non devi sbagliare è largo però dai si no è... sai non è bellissimo tira su quelle là e metterle qua occhio che arriva aiuto il parrucchio è volato no se sposa che questo mi butta giù però non cade lui ma mi fa cadere a me no avevo paura di stare lì che mi buttavi là sai com'è è Grazie a tutti.